Eeeh! 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 State qui però eh! Eeeh! 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 Potreste venire alla luce per cortesia? Eeeh! 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 No! Te l'hai fottuto tanto luce! Diciannove! Eeeh! 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 Conta! 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 Portatelo alla luce che non si vede! No! Ma... Vedetelo fanno! Eeeh! Guarda che questo è troppo... Ma no! Ma dove non siete arrivati? No! Ma non siete arrivati! Ma non sapete neanche contare! Ma non siamo arrivati! No! A quanto siamo arrivati? A tredici! A ventuno! guarda la 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 la